Benvenuti a tutti a questo mio nuovo video Oggi ritorniamo a parlare di quello che saranno le prossime uscite in campo con video anime Tra l'altro mi ero un po'... mi stavo un po' ritardando diciamo Cioè ero un po' in ritardo perché a sto giro volevo aspettare che uscissero molte più cose Però vabbè siamo a settembre e da più di un mese che non lo faccio Ho detto vabbè facciamolo Incominciamo con la Ultra... la Gate of Trance Box Set Vabbè la ribattezzo Ultra Limited come quella di Eva Che conterrà la serie sia in Blu-ray che in DVD E avrà il prezzo di 129,99 euro Dal comunicato ufficiale dicevano che gli ordini si chiudevano l'11 agosto Ma come potete vedere la si può preordinare Io tra l'altro l'ho anche ordinata molto dopo l'11 agosto Quindi non capisco perché dicano... Cioè forniscono delle date... delle chiusure... Sulla carta delle chiusure ordini Così... così presto per poi effettivamente non concludersi Cioè... non lo so... vorrei capire perché adottare questa... Tutte le volte che fanno questo tipo di edizione Questa strategia qua di marketing... questa comunicazione qua Perché non ha senso Anche perché ormai... quando tu la dici nessuno ti crede Che si sa già che lo potrai preordinare anche dopo Poi... uscirà poi anche l'ultimo film di Eva Da quello che ho capito però... sì... con edizioni separate Quindi Blu-ray e DVD separati 35 euro Allora aspetta... qui non mi ero... cioè non ho detto la mia sul prezzo Avrei bisogno di vederlo per capire se è un prezzo sacrosanto o meno Sicuramente è una bella edizione eh Cioè... Sembra sicuramente una bella edizione Però forse... forse... Questa... se magari con... all'epoca con quella di Evangelion Era talmente valida che... Io personalmente avevo detto che... 130 euro erano addirittura pochi Perché poteva costare tranquillamente 30-40 euro in più minimo Qua forse... rappresenta... il prezzo rappresenta forse il massimo Lo capiremo poi il... quando lo avremo in mano a novembre Per il momento Sempre se non verrà rinviato Poi... Evangelion vabbè abbiamo già detto DVD e Blu-ray separati 35 euro Non lo so sinceramente eh Cioè se fosse il 4K già il 35 euro ci starebbero Blu-ray normale 35 euro Ok che ci sono due Blu-ray però... Non lo so Mi sembra un prezzo... Con 5 euro in più... dai Secondo me 30 euro al più sul prezzo Però vabbè pazienza Ecco con un'uscita di ottobre di Yamato Finalmente esce... Una delle serie moderne che stanno doppiando In questi ultimi anni su... con Anime Generation Anche se in realtà... Overlord forse... E' una release prime base Il prezzo è anche quasi competitivo Comunque la prima serie completa 35 euro Niente male io mi... avrei pronosticato dai 40 e 50 L'unica cosa è che... Dovremmo avere... avremo poi conferma quando esce Ma sembrerà... cioè mi sembra un'edizione proprio base base Cioè sicuramente... Cioè... Sicuramente non avrà lo sleep case rigido... Di Fire Force e di Assassination Carsum... Ma mi sa che non avrà neanche due booklet Cioè sarà sempre la... la classica edizione con un solo booklet E ti dirò... E ti dirò... E ti dirò... non mi sembra proprio il massimo perché... A me ultimamente come sta facendo le cose di Yamato... Non mi dispiaceva... nel senso che era un miglioramento sia... E qualitativo perché lo sleep case rigido è figo Ma perché anche con le edizioni con due booklet Forneva nell'insieme... Una buona offerta di extra fisico tutto sommato Però vabbè... vedremo comunque il prezzo è abbastanza competitivo Tra l'altro... Cioè... ripensando a questo... Cioè io mi ricordo che... Aspetta adesso lo verifico anche in diretta Perché... a sto punto... Cioè... mi ricordo che all'epoca questo costava anche di più Cioè... Cioè perché questo costa 10 euro in più? Cioè... Probabilmente perché c'è più contenuto... Extra fisico probabilmente Ecco... Probabilmente sarà solo per questo Se no... non si spiega la cosa Cioè... Perché se mi sbaglio gli episodi sono gli stessi Anzi forse... Questo affare dovrebbe... Cioè... Questa serie dovrebbe anche avere un episodio in meno Vabbè... Vabbè... È strana la cosa Ehm... Tra l'altro io non credo che... Eh... Overlord lo prendo perché... È una serie che ho... Iniziato un po' di settimane fa E che ho finito a fatica la prima serie E poi l'ho droppata nel corso della seconda Perché non mi stava piacendo particolarmente Sarà anche che ne ho viste davvero tante Di questo genere qua Cioè... Ne ho viste così tante che la metà basta Quindi forse è anche per quello Comunque sì... Sicuramente non lo vedrete nel 2023 Magari E poi potrebbe far parte della collezione Ma... La vedo difficile Allora poi... Ci sarà il primo epofanetto Dei Cavaliere dello Zodiaco Con 4 Blu-ray E 55 Probabilmente il prezzo sarà 50 E questo qua sarà il prezzo di listino Penso sia buono Cioè... Perché comunque già a livello di quanti... Cioè... Sicuramente ci saranno Boh... 35 episodi Non male il prezzo Anche perché di solito stavano Questi cofanetti Li metteva a 60 Quindi Prezzo Sulla lì Abbastanza standard Anzi forse addirittura Leggermente sotto lo standard Però vabbè Ci servirebbero delle informazioni in più Per darmi un giudizio Più completo Se sì Che il vuoto sia onesto o meno Continua a non uscire I TV Movie Collection Di Lupin Vabbè ci sta Tra l'altro anche con le Edizioni Con una statua Arriva poi A ottobre Un nuovo volume di Dragon Ball Super Vabbè ci sta Lo continuano a pubblicare Il prezzo sembra lo stesso E anche a livello di episodi contenuti Se no non siamo lì Ultimo articolo che vediamo Della giornata La limited edition Del secondo film di Di Sawa Progressive Che è un po' come la prima Tra l'altro Io mi auguro Che a sto giro Ma la vedo difficile Il cofanetto Non avrà 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 un digipack Con i dischi separati Perché io Mi è capitato di vederlo Sotto il canale La bottega degli anime Che aveva fatto All'epoca L'unboxing Del primo cofanetto italiano Per quanto Chiaramente A livello di contenuto Non è male Però Quel digipack Che avevano utilizzato Era veramente Imbarazzante Per un'edizione Di questo tipo Perché Come più volte Ho detto nel mio canale Per me Le edizioni Fighe Di questo tipo Devono essere Prima di tutto Eleganti E i dischi Uno sopra l'altro Sono tutti Tranne che Elegante Quindi mi auguro Prego Spero che per chi Lo prenderà Perché non mi interessa Personalmente Io Purtroppo Non ho neanche Potuto avere L'occasione Di vedere Sto film Al cinema Ho visto Solo il primo Anche quello Purtroppo Non ho potuto Vedere Al cinema L'ho visto Su Prime Video Anche in questo secondo Gli danno L'occhiata Probabilmente Su Prime Video Dove uscirà Però sì Non mi metto Sicuramente A spendere 50 euro Per Sato Progressive Perché Non mi ha Fatto impazzire Il primo E boh Cioè Non ho ancora Preso il primo Figuriamoci Se ne prendo Questo Quindi Mi auguro Solo Che A sto giro Abbia un Digipack Decoroso O se non ha Il Digipack Spero che Piuttosto che Avere Dischi Uno Sopra L'altro Piuttosto Preferisco La Marei Cioè A questo punto Aspetta che Cioè Cioè Dini Se proprio Vuoi risparmiare No Perché Che è L'unico motivo Per la quale Usare Quei Quei Digipack Vergognosi No Cioè Usa una Marei Di questo tipo No A sto punto Almeno Almeno Da una cosa Minimo Carina Da vedere Anche se Per molti Collezionisti La Marei La Marei È È Il Demonio Dell'universo Non per me Perché Anche se Chiaramente Preferisco Il Digipack Però La Marei Per me Basta Che i dischi Non siano Uno sopra L'altro Uno sopra L'altro E va bene Cioè A me È una cosa Del genere Per dire Lupin terzo Qua Lupin terzo La terza serie A me Non dispiace Una cosa Del genere Tra l'altro Questo è Anche piccolo Cioè A me Non dispiacciono Le disini Di Amato A volte Anche perché Sono veramente Piccoline Cioè Con poco Spazio Sfruttano E hanno Tanti dischi Dentri E Ognuno Ha il suo Spazio No È un libro Alla fine Cioè A me Ste cose Non dispiacciono Quindi Per me Basta Che i dischi Non siano Uno sopra L'altro E Va bene Alla fine Cioè Allora Beh Vedremo Un po Quando uscirà Detto Poi Sì Vabbè Per quanto riguarda Il resto Il prezzo È in linea Probabilmente Sarà pieno Di contenuti Buoni E vabbè Questo Poi Lo potremo Scoprire Soltanto Vivendo Detto questo Iscrivetevi Nel canale Dite un po Cosa ne pensate Dite se comprate qualcosa Se siete interessati a qualcosa Ci vediamo al prossimo video